Eccoci qua, siamo alla vigilia di una partita importante e storica. Giochiamo in uno dei campi più importanti d'Europa, giochiamo con una squadra che viene da grandissime stagioni europee proprio a livello europeo, è già detentrice di un titolo proprio in Euro Cup alcuni anni fa. Proprio per questa importanza è una grande occasione per dar tutto. Saremo ipermotivati, pieni di energia, vogliamo costruire la nostra grande impresa a partire già da domani.